Di Toscana TV, la procura di Firenze ha chiesto il processo per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier e leader di l'Italia Viva Matteo Renzi, per l'inchiesta per il fallimento delle cooperative delivery service Italia, Europe Service e Marmodiv, che conta una ventina di indagati. Banca rotta fraudolenta e emissioni di fatture false, i reati ipotizzati a vario titolo. L'udienza preliminare sarà il 9 giugno e per questa inchiesta i genitori di Renzi furono arrestati un anno fa. E un pensionato invalido si incatena davanti alla sede dell'Asl di Pistoia per rivendicare il diritto ad essere curato, come ci spiega nel servizio Patrizio Ceccarelli. Si è incatenato davanti alla sede dell'Asl di Pistoia, in via Pertini, per rivendicare un diritto previsto dalla Costituzione, ovvero le cure gratuite agli indicenti. È la protesta del signor Marco Caruso, pistoiese di 61 anni, invalido, civile, con un punteggio del 74%. I farmaci che servono per calmare i dolori conseguenti ad un insieme di patologie che affliggono il signor Caruso sono in fascia C, quindi non vengono passati dal Servizio Sanitario Nazionale e la sua pensione di invalidità, circa 500 euro mensili, non gli permette di acquistarli. Ho scritto a tutte le istituzioni, non mi hanno risposto e siccome sono un invalido con handicap, ci sono farmaci in fascia C che non mi posso permettere di curarmi e allora ho deciso di iniziare la protesta pacifica. Che tipo di farmaci per cosa servono? Sono farmaci antidolorifici e quindi per la sanità non è un salvavita e quindi sono in fascia C e bisogna pagarli per intero. Lei è un pensionato? Sì, è dal 2008 che c'è una pensione di invalidità. E questo però non le permette di potersi comprare questi farmaci? No, perché prendo 590 euro al mese, poi ho un quinto dello stipendio fatto apposta per comprare questi farmaci, che non posso rifare un altro quinto, quindi ora non ho soldi per curarmi. E quanto costano questi farmaci? Le infiltrazioni costano 62 euro l'uno e devo farne almeno 4, 5, 6 a volte al mese. Ho la sclerosi, poi ho menischi e cartilagine e più uno staccamento ai ginocchi, poi sulle spalle ho un'ernia staccata, due vanno a graffiare nella cuffia, poi ho soffro di tiroide e sono cardiopatico. Per non parlare delle cure per i denti, per le quali il signor Caruso dice di essere in lista di attesa da mesi. Sono chiuse le liste e non posso mangiare perché al momento il dentista non ci ha posto per potermi curare. Alla prefettura di Firenze si è tenuto ieri un vertice per fare il punto sul caso coronavirus nelle province di Firenze e Prato. Per la prima volta a un incontro sulle misure da prendere per cercare di sventare il contagio era presente il console generale cinese Wang Wengang. A lui le autorità hanno chiesto di diffondere un invito a propri concittadini che vivono in Toscana affinché provvedano a un'auto quarantena volontaria a domicilio per chi è appena tornato dalla Cina e che segnalino il proprio caso alle autorità sanitarie perché possano scattare i controlli. Ancora più importante al console è stato chiesto un rapporto sui flussi di persone rientrate dal paese orientale e il diplomatico si è detto disponibile a elaborarlo fornendo i nominativi. E sempre sul coronavirus attivo da oggi il servizio di check-in pre-triage di pronto soccorso al Policlinico Santa Maria alle Scotte ideato per isolare eventuali casi sospetti di coronavirus. A renderlo noto l'azienda ospedaliere universitaria Senese si tratta di una misura preventiva a tutela di pazienti, visitatori e professionisti. In caso di autopresentazione tramite una struttura provvisoria posta all'ingresso con opportuna segnaletica il personale specializzato del pronto soccorso effettuerà una valutazione preliminare sui pazienti in arrivo mirata in caso di necessità a indirizzare eventuali casi sospetti a uno specifico percorso di presa in carico ed eventuale isolamento. La nuova procedura è stata testata e approvata dalla Task Force interna dell'azienda universitaria Senese. Dopo l'annuncio della Fiorentina sui dubbi dell'area Mercafir per il nuovo stadio il comitato Franchi si fa sentire e dice il progetto Mercafir non dà certezze. Sentiamo. Soddisfazione per le comunicazioni della Fiorentina con valutazioni tendenzialmente negative circa il progetto di realizzare un nuovo stadio a Novoli nell'area Mercafir. Era chiaro fino all'inizio che quel progetto non dava nessuna certezza né dei costi né soprattutto dei tempi indicati dal presidente Rocco Commisso. Così il comitato Vogliamo il Franchi che sottolinea che i 6 milioni ipotizzati dalla Fiorentina per l'acquisto del terreno cozzano clamorosamente contro i 22 della base d'asta e i 4 anni ideali per la realizzazione sono già diventati almeno 5 senza contare i troppi imprevisti in corso d'opera e gli eventuali ricorsi al TAR peraltro già annunciati da Italia Nostra. Per il comitato torna dunque in campo l'ipotesi restyling dell'Artemio Franchi che a tutt'oggi si presenta come la più rapida, la più economica, la più conveniente anche per gli spazi da sfruttare commercialmente. Non saremo noi a caldeggiare il cambio di nome, conclude il comitato ma si tratterà probabilmente di un male necessario per consentire alla Fiorentina di sfruttare l'impianto come veicolo pubblicitario sull'esempio della Juventus che ha affittato il nome del nuovo stadio alla compagnia di assicurazioni Allianz per ben 75 milioni. Ad Artemio Franchi potrà essere dedicata ad esempio la tribuna centrale. Un fatto che sta facendo discutere e riflettere ha coltellato il suo pitbull uccidendolo perché troppo aggressivo. È la motivazione che ha dato ai carabinieri un uomo di 38 anni e ha pregiudicato che nella notte tra lunedì e martedì si è avventato sull'animale domestico che teneva con sé nella sua casa zona Firenze Nord. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Peretola allertati forse da alcuni vicini che hanno sentito i guaiti dell'animale. Il 38enne è stato denunciato a piede libero per il reato di uccisione di animali. Quando i carabinieri gli hanno chiesto perché avesse compiuto tale gesto l'uomo ha risposto che il cane si era mostrato all'improvviso aggressivo con lui e per questo aveva deciso di punirlo. Parliamo di carceri. L'obiettivo è dare uno sbocco normativo al dibattito politico e legislativo sul tema del riconoscimento del diritto soggettivo all'affettività e alla sessualità delle persone detenute. E' questo il senso della proposta di legge al Parlamento approvata dal Consiglio regionale con contrari Lega e Forza Italia che interviene sulle norme che disciplinano l'ordinamento penitenziario. Allora sentiamo l'ex garante dei detenuti della Toscana, Franco Corleone perché il suo mandato è scaduto e il posto è attualmente vacante e che a questa proposta di legge l'ha fortemente voluta. Sentiamo l'intervistato da Chiara Valentini. Parte dalla Toscana prima regione in Italia una proposta di legge per il Parlamento per la sessualità e l'affettività dei carcerati. Cosa dice questa legge? Noi garanti abbiamo predisposto un testo molto convincente che affronta questa limitazione che c'è nell'ordinamento italiano. Molti paesi europei hanno questa previsione e la viene in maniera costante praticata. È un diritto costituzionale affermato dalla Corte Costituzionale che ha richiamato pochi anni fa il Parlamento a legiferare. Non si è fatto nulla. Si discute da 20 anni questa proposta. Così come sono costruite, uno dei rischi anche gravi è la disgregazione dei rapporti familiari. E quindi il rischio è che il reinserimento non è difficile solo perché non c'è il lavoro, non c'è la casa, ma anche perché si sono distrutte le relazioni personali. Corleone, come si concretizzerebbe questa legge? Noi proponiamo nella proposta di legge che ci siano unità abitative dedicate avendo a disposizione fino a 24 ore di tempo in modo che ci sia in effetti una relazione in un tempo non breve in modo da con il compagno, la compagna, la moglie, chi che sia, anche con la presenza dei figli avere la possibilità di avere una giornata piena senza controllo visivo della Polizia Penitenziaria. Andiamo all'ospedale pediatrico Maier di Firenze dove in chirurgia ortopedica arriva Giovanni Beltrami l'eccellenza che lavora con la stampa 3D. Raccari Campi. È stato tra i primi a livello internazionale a impiantare su bambini protesi personalizzate realizzate su misura grazie alla tecnologia della stampa 3D. Parliamo di Giovanni Beltrami, uno dei massimi esperti di chirurgia ortopedica oncologica che da oggi entra a far parte dell'azienda ospedaliera universitaria Meier. L'utilizzo della stampa 3D in ortopedia è una novità clinica perché di fatto abbiamo iniziato negli ultimi anni a utilizzarla per risolvere le problemi annosi che sono le ricostruzioni in un osso che è un osso fragile, un osso che cresce, è un osso elastico, quindi dopo una restrizione oncologica di grandi segmenti l'approccio della stampa 3D permette nuove soluzioni chiaramente in un ambito clinico molto complesso che va sempre inquadrato nell'insieme. Quanto sono frequenti questi interventi sui bambini? In media l'ortopedia oncologica è una patologia rara come incidenza perché l'incidenza dei tumori primitivi dell'osso e delle parti molli è rara. Come centro di riferimento chiaramente abbiamo tanti pazienti che vengono da tutta Italia e di fatto questo ci permette di utilizzare la stampante 3D dove è necessario in media su 5-6 casi l'anno. Beltrami, fiorentino di 53 anni, ha una lunga esperienza in sala operatoria al Carigge di Firenze e all'estero e il suo arrivo dà un impulso importante alla ricerca. È molto importante non solo per la specificità che a livello nazionale ci mette in prima fila sull'ortopedia oncologica pediatrica ma anche per la complessiva attività ortopedia e traumatologica è molto importante nel nostro ospedale a partire dal trauma center legato al pronto soccorso per la traumatologia tutta l'ortopedia pediatrica quindi ci accreditiamo col suo arrivo a essere un centro di riferimento nazionale. E a Firenze l'ex monastero di Sant'Ambrogio rinasce con la scuola del caffè Giulio Lacaridi L'ex monastero di Sant'Ambrogio nel cuore di Firenze torna a nuova vita dopo 35 anni di disuso il complesso di origine medievale viene restituito alla città sarà la sede della scuola del caffè la prima in Europa ospitata all'interno di una caffetteria aperta al pubblico capofila del progetto di recupero è ditta artigianale specializzata al consumo consapevole di caffè in collaborazione con il comune di Firenze e con il sostegno di Montedomini proprietaria dell'immobile l'inaugurazione è prevista per il mese di giugno 2020 una scuola realizzata da un operatore di fama indiscussa nel settore con una bellissima progettazione che arricchisce il panorama della nostra offerta anche formativa troviamo che il saper fare italiano il gusto debba non necessariamente diventare un fattore educativo un fattore di formazione per tanti operatori anche che poi non lavoreranno qui lavoreranno dappertutto ma porteranno con sé il senso del farle cose bene del farle con cura cercando innovazione ma anche conoscenza delle tradizioni della propria storia e questo fa ditta artigianale e questo speriamo farà la scuola del caffè un recupero straordinario una grande capacità di recuperare la storia di questo spazio e di proiettarlo nell'oggi quindi nella formazione nella scuola nell'alta qualità un bellissimo intervento siamo nel cuore di Firenze siamo in una zona molto centrale e Montedomini proprietaria aveva tutto il piacere e l'interesse che questo spazio fosse ben utilizzabile per questo quartiere per questa parte di città Clemente VIII si era trovato nel 1615 a decidere se scomunicare il caffè oppure invece benedirlo diventando una bevanda cristiana accettò di farlo diventare una bevanda cristiana dopo averlo provato e oggi che questa caffetteria entri e stia all'interno di questo contesto è come una nuova benedizione di una bevanda che ormai identifica uno stile di vita E ora la cultura dello spettacolo con Elisabetta Berti fa tappa al Teatro Verdi di Firenze la fortunata tournée di Romeo e Giulietta nati sotto contraria stella una rivisitazione della tragedia di Shakespeare firmata da Leo Muscato dove gli interpreti sono Ale e Franz Non pensiate di trovare la panchina o le consuete conversazioni tra pensionati da Teatro dell'Assurdo è tutt'altra la veste in cui vedremo stavolta Ale e Franz nome d'arte dello storico duo comico milanese composto da Alessandro Besentini e Francesco Villa di nuovo insieme a Teatro l'ambiente che li ha visti nascere artisticamente prima di affermarsi in tv e al cinema Ale e Franz saranno due attori di una sgangherata compagnia di girovaghi che decide di mettere in scena su un palco improvvisato l'opera di Shakespeare i cui interpreti sono proprio come nel teatro elisabettiano tutti uomini e io mi fermo qui grazie per averci seguiti arrivederci